Uomini e donne, spoiler riprese 30 aprile, fa piangere Nicole, Armando volta pagina. Cosa è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 30 aprile? Gli spoiler sulle nuove riprese del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che al centro dell'attenzione c'è stato il percorso dell'atronista Nicole, la quale si è ritrovata a fare i conti con l'ennesima provocazione da parte di Roberta. Spazio anche alle novità di Armando che, nel corso di questa nuova registrazione del talk show, ha dimostrato di voler voltare pagina definitivamente dopo le accuse e le critiche delle ultime settimane. Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Roberta, al termine della riprese di sabato pomeriggio, si è avvicinata a Carlo. Il corteggiatore di Nicole protagonista di un nuovo acceso confronto scontro in studio con l'atronista. A quel punto, Roberta ha colto la pala al balzo per consolare il corteggiatore e rincorarlo dopo la lite che c'era stata con l'atronista. Tra Roberta e Carlo è arrivato un abbraccio che non è passato inosservato e che è indispettito notevolmente l'atronista. Che sta portando a termine il suo percorso in studio. Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Nicole ha avuto un crollo emotivo dopo aver litigato con Carlo per colpa di Nicole e di quell'abbraccio che l'ha messa in crisi. E, come se non bastasse, l'atronista si è ritrovata a litigare in studio anche con l'altro pretendente Andrea. Nonostante i due avessero atto un esterno caratterizzata dall'ennesimo bacio passionale. Insomma, un percorso sempre più difficile per la bella Nicole che, nel corso delle prossime registrazioni del talk show in programma durante il mese di maggio, dovrà svelare il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio del talk show Mediaset. E poi ancora, gli spoiler che arrivano dalla ripresa del talk show di questa domenica pomeriggio. Rivelano che c'è stato spazio anche per un lungo blocco incentrato sulle vicende di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, infatti, ha dimostrato di voler voltare pagina definitivamente e lo ha fatto intraprendendo una nuova frequentazione con una delle dame presenti nel parterover. In questo modo, quindi, Armando dimostra di voler lasciarsi alle spalle le critiche e le accuse che gli sono state mosse nel corso di queste ultime settimane. In studio, però, non sono mancati i battibecchi e questa volta Armando discusso animatamente con Gianni Sperti.